ciao bambini ma qui non c'è proprio nessuno ma io lo so che siete al di là dello schermo però ci sono un sacco di bei disegni in quest'alla gialla babbo natale l'albero una cosa più bella dell'altra che meraviglia sapete bambini io vi aspetterò sarò qui quando voi tornerete e allora bambini nel frattempo possiamo ripetere la filastroca della settimana attenzione attenzione bambini eccola eccola qui bambini lunedì corre di fretta è tutta rossa la nuvoletta martedì dipinge di giallo un sole grande e un bel pappagallo mercoledì tutta arancione guarda il tramonto con il maglione il giovedì cambiando colore scopre che il verde le sta a perfezione se il verde viola diventa è per creare una tormenta arriva sabato è giusto riposare nel cielo blu intenso come il mare infine la domenica un giorno un po' speciale nel cielo ogni colore ritrova per giocare ciao bambini io vi saluto vi voglio tanto bene e ci vedremo presto mi raccomando ciao ciao ciao